Qualcosa, perché poi i dossi non ce ne sono, purette non ce ne sono. Ma tu programma e programma che cosa intendi? Che quando hanno fatto il comune, gli amministratori, io so anticamente dove hanno spaccato, parliamo cento anni fa, c'era una sposa, sono spostata in questa chiera, persone di Galazza, ai tempi c'erano vestiti con le mutande, ma cosa c'entra con l'incidente di questo qua ragazzo? Cosa è successo? Hanno spaccato, c'erano i blocchi lavici e stavano facendo questa strada. Tu ti vedi questa sposa come ora, col forte caldo, con un vestito chiuso, antico, tutto all'uncinetto, alla stile siciliano di nuovo, con caldo da morire. E loro sono passati, c'è questa fotografia in bianca e in nero, c'è da anni fa. Sì, ma con l'incidente di questa ragazza che è morta? Praticamente, ci passa un fiume, di sotto l'hanno coperto. Sì, ma l'asfalto è integro, non è che c'erano cunette o cosa del genere. No, c'è che di sotto passa piano piano questo fiume e poi loro lo chiamano con tratta terre forte perché c'è un punto che inizia l'argillo, è argilloso, non è roccia, non è per roccia, c'è un punto che non è roccia. Finisce la pietra latica, praticamente. Quindi loro hanno coperto un pochettino in teoria questo fiume, per farci questa strada con questo curvone, praticamente. e cent'anni fa, praticamente, persone di sigarazzi, se tu la facetti che la fotografia c'è, in bianca e nero tutto, punto croce, chicchirino, se la portano in precessione. Uomini con le giacche vestite di nero, allora, tessuti pregiati di allora. E poi questi uomini, venuti solo con le mutande, con il fortecato, a spaccare la roccia per lavorare, per morire di lavorare. e hanno fatto tutto questo blocco. Quindi, in parte, c'era un fiume che poi, forse, portava della casa rosata, a quei tempi, acqua. Quindi, in parte, in parte, buona, in parte, non più buona.